Buona Pasqua! Drammaticamente la pandemia ci sta insegnando che non abbiamo alternative al volerci bene. Il risorto anche quest'anno entra nella nostra vita, ci rassicura con la sua parola pace a voi e la pace è figlia dell'amore e del volersi bene. Che sia per tutti una Pasqua dove sentiamo che gli altri sono i nostri fratelli e le nostre sorelle, sia una Pasqua dove torniamo a respirare l'aria buona, l'aria pienamente umana di chi non rinuncia ad amare, di chi sente che nelle stanze della mare abita la gioia, la pace e la vita. Di nuovo a tutti, buona Pasqua!